buongiorno cari amici oggi parliamo velocemente laica terza g laica terza g è l'ultimo modello con innesto a vite 39 mm è fatta dalla lights laica terza g alla differenza a del precedenti modelli e che ad esempio questo qui è una macchina della 1930 circa dopo quasi 30 anni di diciamo storia della laica finalmente crea una macchina diciamo quasi moderna qua è una cosa molto interessante laica m3 nasce nel 1954 ok mentre la laica terza g nasce 1957 cioè tre anni dopo della nascita della m3 questo significa c'erano tanti appassionati e che avevano acquistato innesto a vite ed erano affezionati e questo tipo di laica stile barnac oscar barnac ok ovviamente laica m hanno disposto predisposto a poter utilizzare gli obiettivi innesto a vite con un apposito anello semplicissimo tu metti faccio vedere tipo anche questo qui no ok tu metti un anello e poi c'è monti sulla laica m però m3 era un po più grande cosa di questa questa macchina intanto ha cominciato prima volta utilizzare i tempi cioè non cinquantesimo cioè venticinquesimo di secondo ma una un secondo mezzo secondo un quarto un ottavo quindicesimo trentesimo sessantesimo cento venticinquesimo cioè i tempi diciamo così internazionali questo secondo hanno messo il cornice della 90 mm e 50 mm 50 e 90 e prima volta che che fecero una cosa del genere perché fino a quel momento il mirino era solo 50 mm poi per altri obiettivi dovevi utilizzare anche il mirino a parte montato sulla slitta porta accessorio mentre questo ha predisposto 50 e 90 pensare che anche m3 comincia il cornice dal 50 90 135 quindi al suo tempo la richiesta del grandangolare era molto ma molto inferiore e che è quello di tere quindi 90 mm era abbastanza importante in a quell'epoca cioè come cambiato anche diciamo la sensibilità e anche il gusto della del popolo laica terza g e sono stati prodotti dal 1957 a 1960 contemporaneamente c'erano prima g ma lasciamo stare prima g e era utilizzo scientifico quindi non aveva telemetro cioè quindi terza g per me il loro stile barnac cioè l'ultimo modello dello stile oscar barnac in effetti poi qua cioè diventa il discorso troppo lungo perché barnac morì cioè molto prima e quindi vecchi ma vecchi anziani collezionisti considerava fino alla laica terza b b di bologna che in realtà barnac non vede la nascita della nascita della terza b però lui aveva comunque contribuito la nascita della laica terza b però quindi cioè vecchi collezionisti quando parlavamo della barnac style loro consideravano fino a terza b sennò cioè ma sì c'è terza c no se non è di barnac c'è terza f terza c no per carità non è di barnac sì vabbè fa niente questo è di barnac per me ok guardiamo attentamente un po qui c'è levettina guardate levettina correzione di ottrica guardate qua il milino e il telemetro ancora non è diciamo sono separati ok non è come m3 e che nel unico milino che fai inquadratura e messa a fuoco mentre ancora questo qui fai messa a fuoco poi sposti quella diciamo 8 mm cioè no e poi c'è inquadri e scatti qua prememoria della pellicola qui c'è singolo flash fino a terza f sincronizzazione secondo anche tipo di flash che utilizzavi c'erano i numerini mentre questa l'hanno fatto già uno solo senza che tu mettessi i numerini dalla 0 a 20 passa ok flash elettronico e qua flash con la balvola e qua quindi tu mettevi qua questo è il singolo flash ok poi guardate da qua vedi trentesimo sessantesimo centoventicinquesimo poi uno a 30 cosa è una 30 cioè i tempi rienti viene regolato dalla seconda ghiera quindi tu carichi sposti tempi da 30 a 1 tu sposti questa ghiera mettiamo vuoi un secondo metti un secondo scatta un secondo bene poi questo è per azionare per riavvorgimento così il rocchetto tutto viene liberato ok contapose ritorno non automatico quindi una volta caricato devi portare a meno 2 e cominci a scattare fare avanzamento davanti qui c'è autoscatto ritardo di 12 secondi azionare autoscatto e devi chiusciare questo bottone e liberare la leva così dopo 12 secondi scatta il fondello cioè il corpo è come anche laica m3 eccetera non è apribile per caricamento per ottenere comunque maggior robustezza perché laica prima di tutto deve essere durevole col tempo durevole per urti perché venivano utilizzati dai professionisti e reporter caricamento è semplice bisogna inserire la pellicola qua e poi va bene ok inserisci questo qui è è abbastanza facile ma andava tagliato un pochettino circa 12 centimetri di coda questo basta fare a casa semplice poi questo rocchetto tra altro è uguale identico a quello della m3 m2 m1 bene il fondello è fatto benissimo cioè veramente un caporavoro cioè questa è una macchina fotografica laica innesto a vite 39 mm l'ultimo l'ultima versione fatta l'ultima una chicca allora voi troverete terza g con nottorino di avanzamento qua vedete c'è una fascia cromata ok liscia prima serie questo nottorino ziglinatura arrivava fin qua seconda versione tarda produzione hanno questa fascia diciamo lucida liscia questo si capisce immediatamente e se c'è alla fine cioè neanche quattro anni di produzione quindi dire prima serie la seconda serie sembra c'è un proprio psicopatico no però devo dire che ci sono questa differenza esistono poi esemplari un po più rari è fatta in canada che c'è scritto qua canada poi ancora più raro terza g è destinato alla militare svedese qua e erano corpi macchina corpo macchina verniciata con corone tre corone bene ci sono anche altri esemplari cioè varianti diciamo difficili da trovare però comunque non ha nessun diciamo valore valore diciamo valore collezionistico sì valore storico un po meno sì c'è perché erano comunque fornitura della lights e che davano a cioè questo quell'altra canadese secondo me è molto molto carina al di là di tutto questo è un caporavoro della lights è un caporavoro di macchina fotografica oggi ad esempio questa viene venduta proposta a 650 euro da noi viene registra proprio revisionata completamente quindi milino è sempre pulito il telemetro è ben contrastato o trattore e scatta con la certezza con la morbidezza nottorino di avanzamento gira morbida a modo molto morbido e anche fluido noi facciamo revisione revisione a valore veramente importante non solo la garanzia che diamo se non va bene non c'è problema cioè tornate da noi perché macchina fotografica va usata va utilizzata questa è della 1958 va bene il piacere piacere di utilizzare quindi andiamo questa macchina fotografica usiamo da godiamo la vita godiamo la fotografia noi siamo con voi bene grazie volevo fare un minuto è diventata 10 minuti porco cane sì comunque buona giornata